Parliamo di lavoro, lo facciamo con Massimo Di Giovanni, FPCGL Abruzzo, grazie per essere qui con noi e per parlare dei lavoratori del comparto ambientale uniti per un nuovo contratto, un nuovo contratto che Di Giovanni voi avete reclamato a gran voce, sarebbe il caso di dire, con uno sciopero nazionale, uno sciopero che ha avuto, tra altre cose, grandi riscontri anche da un punto di vista delle adesioni di Giovanni. Sì, l'adesione è stata sopra l'80%, con punti addirittura del 90-100%, quindi una stensione al lavoro pressoché totale, e questo naturalmente su tutto lo stivale in tutta Italia, ed è evidente che questa è una risposta e un messaggio tangibile alle controparti e alle associazioni datoriali, poiché la nostra piattaforma unitaria di CGL, CISLE, UIL e FIA del comparto dell'igiene ambientale ha delle tematiche molto importanti ed attuali, quindi non soltanto il recupero e la difesa del potere economico dei salari, ma ci sono questioni di carattere normativo che hanno la loro rilevanza. Ecco, noi abbiamo mobilitato i lavoratori e su questa piattaforma i lavoratori naturalmente ci hanno dato il consenso con un'adesione, come si diceva, pressoché totale su tutta la nazione italiana. Ho una nazione importante, tra le altre cose di queste ore, anche dal punto di vista delle indicazioni governative, il fatto che i cortei saranno a breve banditi, ci saranno soltanto i sit-in, non ci si riferisce naturalmente soltanto agli assembramenti dei Novax, ma poi indirettamente anche a quelli che saranno i vostri appuntamenti, le vostre mobilitazioni, una mobilitazione che con un sit-in, in ogni caso davanti alla provincia di Pescara, in queste ore ha avuto modo di far valere le vostre ragioni e quelle soprattutto dei lavoratori. Quali sono in questo momento e quali sono gli obiettivi principali? Il diritto di manifestare è un diritto sacrosanto e costituzionalmente previsto. Ora è evidente che noi siamo in una fase molto complicata di pandemia, dalla quale ancora non usciamo, e quindi il governo ha inteso evidentemente regolamentare queste manifestazioni, perché appunto se non dentro delle regole e dei canoni certi, potrebbe in qualche modo anche acuire, come in alcune città tipo Trieste è accaduto, acuire appunto il contagio. Ora però è evidente che noi in quella occasione, nell'occasione appunto della manifestazione, abbiamo indetto un presidio, e si può vedere dalle immagini, insomma questo presidio è stato molto parco da questo punto di vista. Perché pioveva, tra le altre cose, comunque c'era lo stesso gente. Certo, ma ci siamo contenuti nei numeri, tenga conto insomma che il contratto dell'igiene ambientale riguarda 100.000 lavoratori, e per quanto concerne l'Abruzzo siamo all'incirca 7.000 addetti. È evidente che noi abbiamo fatto un presidio di una centinaia, insomma, di lavoratori, e quindi l'abbiamo contenuto, diciamo, già nella fase organizzativa, proprio per evitare queste cose che giustamente si dicevano. Qual è l'obiettivo del nostro contratto? Allora, noi vogliamo un contratto di filiera, un contratto unico, che vada appunto dalla raccolta dei rifiuti allo smaltimento e agli impianti. Questo contratto unico lo rivendichiamo perché è un contratto di settore che non può prestarsi ad altri contratti, perché è una materia specifica dell'igiene ambientale, poiché avviene, come avviene insomma in Abruzzo, ma avviene in tutta Italia, essendo un servizio di pubblica utilità, chi bandisce appunto gli appalti sono gli enti locali e quindi i comuni, i quali hanno l'obbligo dal codice degli appalti di identificare ed individuare il contratto di appartenenza. E noi riteniamo che il contratto di appartenenza debba essere quello appunto dell'igiene ambientale e di settore, perché arrivano da fuori regione, come dire, aziende, le quali non applicando il contratto di settore, vincono magari gli appalti, perché fanno un discorso magari non al massimo ribasso, ma all'offerta economicamente più vantaggiosa, che è il rovescio della medaglia del massimo ribasso, ed è evidente che i costi si scaricano tutti sui lavoratori, dal punto di vista retributivo e normativo. Tenga conto che il nostro contratto rispetto agli altri che si applicano nel settore è circa il 30-40% in meno se facciamo la comparazione al contratto delle cooperative sociali o multiservizi, che sta prendendo piede in questo settore. Ed è evidente che i lavoratori hanno un dumping contrattuale, ma questo dumping contrattuale noi lo rivolgiamo anche alle aziende, ecco perché non comprendiamo l'ostinazione delle aziende a non vorre rinnovare un contratto unico, perché il dumping avviene anche tra aziende, perché ci sono moltissime aziende serie che aprono il contratto dell'igiene ambientale, che se venisse fuori appunto una concorrenza di un contratto non dell'igiene ambientale, è chiaro che ci sarebbe un dumping anche tra aziende, tra quelle aziende appunto serie e le altre, non voglio dire meno serie, ma che comunque cercano di abbattere i costi scaricandoli sui lavoratori. Un comparto quello di igiene ambientale che diventa poi di straordinaria attualità anche in questa fase collegata alla pandemia, in quanto e in cosa questa fase particolarissima che stiamo vivendo condiziona poi la stesura del contratto e il fatto che venga assicurato e in che modo ne condiziona poi anche i termini, se ci sono delle previsioni anche dal punto di vista sanitario particolari che richiedete. Sì, dunque è evidente insomma che noi quando parliamo di igiene ambientale parliamo di rifiuti, il nostro intento è quello di una dimensione di economia circolare, come si suol dire, se oggi si sciacqua la bocca insomma con questo... È un termine ormai diciamo entrato nel lusso comune ma è davvero di grande attualità. Certo, esattamente sì, molte volte abusato perché quando si parla di economia circolare si parla appunto dalla presa in carico del rifiuto, dello smaltimento, della sua trasformazione e anche una trasformazione come dire, ci sono impianti che trasformano l'umido in biogas, importanti, ci sono anche in Italia, magari in Abruzzo come dire, ce ne sono anche, però il punto vero è che questa economia circolare per camminare ha bisogno di investimenti e l'investimento naturalmente si faceva riferimento appunto anche agli aspetti governativi, è chiaro che l'igiene ambientale assume un valore importante dal punto di vista del riciclo dell'economia circolare. È evidente che questo ha bisogno naturalmente di investimenti ma voglio dire che l'igiene ambientale di suo ha una tassa di scopo per alimentarsi perché tutti noi, io, lei insomma, tutti noi paghiamo la famosa Tari che è appunto quella tassa di rifiuti che è posta proprio per il cittadino affinché il rifiuto appunto venga prelevato, lavorato e magari trasformato. Ecco, noi riteniamo che questo sia, come dire, per economia circolare si deve intendere tutto questo ma dentro un canone di investimento certo che già c'è perché vi è l'Atari e magari abbattere i costi nel momento in cui l'economia circolare dovesse prendere piede e quindi anche la trasformazione del rifiuto perché lo si fa sicuramente per la questione ambientale ma per quanto ci riguarda anche per un abbattimento dei costi dell'Atari. Lavorativo è importante, giustamente fate valere le ragioni dei lavoratori che in questo settore nevralgico sono assoluti protagonisti così come sembrava potesse essere assoluto protagonista il porta a porta come criterio anche di raccolta, un criterio che però ha subito anche dei rallentamenti, delle frenate che hanno come origine anche diversi motivi. Qual è la situazione a questo proposito nel territorio che rappresenta sindacalmente ma anche a livello nazionale? Su questo naturalmente ci sono alti e bassi. Noi abbiamo dei comuni come Città Sant'Angelo che hanno portato la differenziata, quindi la raccolta porta a porta addirittura fino al 70-80%. Pescara ci sta lavorando, il trend è sicuramente positivo da questo punto di vista, però qui c'è una particolarità che attiene proprio il lavoro fisico dei lavoratori e l'apporto dei lavoratori che devono dare, perché è tutto giusto quindi il discorso della differenziata e quindi il famoso porta a porta, l'umido, la plastica, il vetro, differenziare il tutto. È evidente che però questo non è che bastino solo i mezzi e le attrezzature, vi è bisogno di un apporto appunto umano fisico dei lavoratori. Noi riscontiamo, e questo è anche un tema del contratto, quindi ritornando al contratto che vogliamo rinnovare, è uno dei temi sul quale la controparte non vuole confrontarsi che è appunto quella della fisicità del lavoro. Noi abbiamo lavoratori purtroppo, fare questo lavoro, prelevare cestelli, 800, 900, 1000, 1.100, 1.200 cestelli al giorno per un lavoratore, quindi scendere dal mezzo, prendere, scaricare, rimettersi nel mezzo e camminare, è chiaro che se lo fai a 20, 30, 35, 40 anni ha, come dire, una rilevanza. Se si continua a fare 55, 60, 65 anni è chiaro che il lavoratore rischia di massacrarsi da questo punto di vista. Ed è uno dei problemi che noi abbiamo inserito nel contratto perché su questo vorremmo che ci fosse appunto una turnazione, un turnover della mansione da farsi perché dicevo appunto dire a un lavoratore che ha 60, 65 anni e metterla a porta a porta, che è sicuramente faticoso da questo punto di vista, è chiaro che si avrebbero, come dire, ripercussioni molto alte. Do un dato e poi mi taccio. Il dato è questo. Noi abbiamo nell'ultimo anno registrato circa 12.000 infortuni in questo settore su 100.000 addetti, quindi il risultato è molto importante, il 12%, e abbiamo riscontrato una richiesta in questi ultimi 5-10 anni, una richiesta di malattia professionale che è del 15%, quindi di 15.000 lavoratori ed è evidente che è un settore molto esposto e a rischio appunto dal punto di vista della sicurezza sul posto di lavoro. Nel rispetto dei servizi essenziali siete naturalmente tenuti a garantire un minimo di servizi stessi per la popolazione e di fatto questo è accaduto nel corso anche dello sciopero nazionale a cui abbiamo fatto riferimento, che però sciopero voi avete fatto presente nel momento in cui non dovessero essere poi riconosciuti i vostri diritti nei prossimi mesi, potreste far di nuovo valere con un nuovo sciopero. Che cosa potrebbe accadere di qui a breve? Guardi, le do una notizia di questa mattina. Io adesso ho finito la trasmissione, insomma dovremmo riunirci come coordinamento nazionale. La notizia è questa, è arrivata dalle parti datoriali, quindi delle associazioni datoriali una richiesta di incontro per l'11 e il 12 novembre, quindi queste sono le date. Noi abbiamo naturalmente il dovere... Quindi siamo ad assoluto ridosso. Esattamente sì, quindi questo è un significato come dire tangibile che lo sciopero ha dato i suoi risultati, l'adesione allo sciopero ha dato i suoi risultati. Ora noi abbiamo il dovere e l'obbligo in rappresentanza dei lavoratori di sederci a quel tavolo, ma è evidente che noi ci sediamo a quel tavolo consci, ancora più forti della determinazione dopo lo sciopero, di quelle rivendicazioni che noi abbiamo messo nel contratto e quindi ripartiamo da quelle determinazioni, da quei motivi del contratto. Poi sì, è vero, noi siamo sotto legge da 146-90 per quanto concerne gli scioperi, siamo praticamente, insomma, io uso sempre questo termine, un po' come avviene nella ASD, negli ospedali, anche lì si sciopera, però è chiaro che devi garantire un servizio minimo, indispensabile, la stessa cosa si fa nei rifiuti. E noi anche questa volta, dentro delle regole certe, quindi nella Commissione di Garanzia che regola gli sciopera il livello nazionale, abbiamo fatto tutto, ma è evidente che se non dovesse appunto andare a buon fine questo incontro che ci hanno richiesto e che noi sono certo ci sederemo come nazionali a quel tavolo, è evidente che, come si diceva, noi saremo costretti a questo punto di riprogrammare dentro quelle regole certe date dalla 146-90, ulteriore mobilizzazione e quindi in asprimento, come si dice in gergo sindacale, della lotta anche durante il periodo natalizio. Speriamo non ce ne sia bisogno, si parla di transizione ecologica, si parla anche di fondi europei, il Premier Draghi ha detto che i soldi ci sono, cerchiamo di spenderli, dobbiamo essere bravi a spenderli, quanto questo vi può aiutare anche in considerazione di quello che prevede la manovra di bilancio per quel che riguarda questo importante obiettivo, la transizione ecologica, che diventa uno poi dei collettori maggiori dei fondi europei? E quanto vi può aiutare in questa contingenza naturalmente? Sì, lo dicevamo prima, è chiaro che il PNRR ha la sua valenza e ci sono investimenti importanti appunto dentro la transizione ecologica e dentro la transizione ecologica, viva Dio, insomma, c'è anche il nostro settore perché è fatto e dovrà essere appunto fatto di impianti che dovranno essere potenziati e realizzati, tant'è che nel PNRR c'è proprio questo, quello a cui facevamo riferimento prima e quindi dentro quell'economia circolare a cui facevamo riferimento è chiaro che si aggancia molto bene gli investimenti del PNRR. Oltre che gli aumenti anche per il settore pubblico, dei lavori del settore pubblico, ma anche quelli del settore privato. Certamente sì, perché questo è, diciamo così, un settore che vive appunto di pubblico e privato. Ci sono moltissime aziende che noi chiamiamo pubbliche, ma che in verità sono delle partecipate pubbliche, cioè aziende, come dire, speciali, chiamiamole così nella normativa italiana, enti strumentali degli enti locali e ci sono naturalmente anche aziende private, lo dicevamo prima, che partecipano evidentemente a dei bandi per avere l'appalto. È evidente che tutto questo, gioco forza, va nella giusta direzione, però anche qui bisogna trovare appunto ed essere capaci con tecnici preposti in gamba, davvero capaci, di tracciare una linea di investimento vero e di economia circolare che tenga conto appunto per quanto ci riguarda anche della sofferenza che vivono appunto i lavoratori sia nella raccolta, nello smaltimento, ma anche negli impianti cui il PNRR ha dedicato ingenti investimenti. Benissimo, noi intanto chiudiamo qui questo primo spazio, poi avremo modo anche di parlarne nel talk tra qualche minuto proprio dedicato al lavoro e alla manovra di bilancio governativo. Intanto ringraziamo Massimo Di Giovanni, FPCGL Abruzzo, grazie per essere intervenuto e per quello che ci ha detto, ci ha portato anche delle notizie fresche sulle quali naturalmente lavoreremo nelle e nei prossimi giorni. Grazie di nuovo per essere stato qui con noi a Veramattina. Grazie, una sola cosa, insomma per evitare equivoci, io rappresento naturalmente un territorio vasto, vengo in qualità di segretario generale della funzione pubblica della Cigelle di Pescara. Pescara, ma in ogni caso in questo contesto rappresenta anche quella che è una realtà abruzzese, che è una realtà che in questa fase molto operativa sul territorio l'ha dimostrata anche l'adesione al recente sciopero del quale abbiamo parlato. Grazie di nuovo a Massimo Di Giovanni per essere stato con noi. Noi ci vediamo fra poco, parleremo, continueremo a parlare di lavoro, lo faremo con gli esperti, con gli addetti ai lavori e con anche il nostro Studio 2 di Torino a tra poco.